Ciao e benvenuto e bentornato nel mio canale il Marchese del Cripto dove si parla solo pane pane e vino al vino sto facendo questo video abbastanza in modalità fast perché voglio darti tre notizie che mi sono giunte da poco due riguardanti Ethereum e una riguardante Spotify ma te le faccio vedere subito dopo la sigla bene eccoci rientrati ti dico subito le notizie che ti stavo dicendo e te le faccio vedere intanto ti condivido lo schermo così sappiamo di che cosa stiamo parlando allora sull'exchange Kraken se non lo conosci Kraken è uno degli exchange forse tra i più ritenuti tra i più sicuri è sicuramente un exchange storico se sei iscritto bene se non sei iscritto lì sotto in descrizione trovi il link per iscriverti mi è arrivata una notizia ossia mi dicono che accetteranno lo staking di Ethereum che verrà data una reward dal 5 al 17% questa percentuale naturalmente è variabile in funzione di quanti Ethereum sono in staking nella beacon chain più sono questi Ethereum in staking naturalmente più si abbasserà questa percentuale annua che verrà riconosciuta un'altra buona notizia è che naturalmente non c'è bisogno di mettere 32 Ethereum come richiesto dalla beacon chain benché adesso sono uscite possibilità di mettere in staking anche meno Ethereum ma in ogni caso non è richiesto un importo minimo da mettere in staking c'è la sicurezza della finanza centralizzata in questo caso per quanto concerne lo staking la garanzia di una piattaforma come Kraken e che cosa avviene soprattutto? c'è inoltre la possibilità quindi di non tenere necessariamente bloccati fino al lancio di Ethereum 1.5 questo staking e ti spiego in che modo voi molto probabilmente già sapete che fino a che non subentrata la fase 1.5 di Ethereum non sarà possibile prelevare appunto questi Ethereum messi in staking ma che cosa si può fare in questo caso? Kraken ha pensato ad una idea molto carina ossia ti danno in cambio con razio 1 a 1 in rapporto 1 a 1 un token chiamato ETH2.S ok? quindi depositando un Ether ti daranno un ETH2.S depositando un Ether.5 ti daranno 1.5 ETH2.S come possono essere usati questi token? innanzitutto può essere tradato solo e esclusivamente sul sito Kraken ma soprattutto appunto può essere proprio tradato in che modo? fra una settimana qui dicono fra circa una settimana verrà rilasciata una coppia di trading ETH2.S e Ethereum quindi c'è proprio una coppia nel quale è possibile effettuare trading quindi non solo avrai il tuo Ether in staking che ti maturerà ma se avrai necessità eventualmente di avere liquidità lo potrai sempre vendere su questo mercato perché questo? perché fino a che non esce l'1.5 la fase 1.5 non li potrai comunque sia in ogni caso riscattare qui invece ti verranno direttamente convertiti in Ether e avrai di nuovo la possibilità di fare quello che ti pare con gli Ether questo ha dei pro e dei contro nel senso che è naturalmente sempre un investimento a lungo termine perché una volta messi in staking la possibilità è necessario chiaramente attendere quella fase per avere i reward e avere gli Ether indietro ma qualora avessi necessità di liquidità qualora si presentassero degli imprevisti qualora possa succedere qualsiasi cosa oppure il prezzo è arrivato talmente alto che secondo te è giunto il momento di dover rientrare del tuo investimento in questo caso è possibile farlo in modo molto semplice ossia si andrà a effettuare questo trading naturalmente perderai il vantaggio dello staking degli Ether che hai messo perderai anche qualcosina dalla coppia di trading però metterai dei tuoi soldi o se non altro del 99% dei soldi questo perché? perché naturalmente finché ci sarà la possibilità di avere il cambio uno a uno se io devo comprare questo ETH2S quindi in questo caso mettere in staking non mi conviene acquistare a prezzo naturalmente più alto oppure anche allo stesso prezzo di uno a uno perché? perché semplicemente deposito il mio Ether lo metto in staking e loro già mi danno un ETH2S quindi per tu che hai necessità di vendere lo puoi sempre fare e qui subentra la seconda notizia che ti volevo dire se invece tu devi acquistare in questo caso tu hai la possibilità di acquistare questo Ether fondamentalmente a prezzo scontato perché chi venderà questi ETH2S in questa coppia il prezzo per forza di cose sarà più basso rispetto al valore in quel momento di Ether tu avrai in questo caso qua ETH2S quindi acquisterai questo token che quando ci sarà la possibilità di poterlo riscattare quindi quando aprirà Ether 1.5 tramite sito sempre di Kraken lo potrai riconvertire in Ether e avrai tutti i vantaggi quindi avrai le percentuali di staking di questo ETH2S dalla sua nascita quindi se questo ETH2S sarà naturalmente più alto perché ci saranno i reward e naturalmente tu avrai questo acquistando questo token e detenendolo e quando sarà possibile da darlo avrai tutti i vantaggi di avere questo token e di avere il reward naturalmente ci danno però anche un campanello di allarme qual è questo campanello di allarme? oltre che questa possibilità è preclusa ai cittadini statunitensi e del Canada ci dice che ci può essere anche un rischio liquidità su questa coppia naturalmente perché non è come acquistare effettivamente Ether o vendere effettivamente Ether ma appunto c'è questo token di mezzo quindi sicuramente ci sarà un mercato può essere sicuramente un po' più difficoltoso vendere grossi quantitativi di Ether quindi magari se avete grossi quantitativi di Ether anche la piattaforma ci dice ok sì, a posto, se lo volete fare a lungo termine non ci sono problemi ma se dovete trattarli in grandi quantità ci possono essere alcuni problemini di liquidità quindi state fondamentalmente attenzione a questo per il mio modo di vedere su Kraken c'è sufficiente liquidità e quindi il problema sarà sicuramente minimale però devi sapere che per grossi quantitativi ci avvisa anche il sito ci può essere questo problema che quindi se li devi vendere forse ci metterai un pochettino di tempo in più voglio farti vedere sul sito Kraken come fare qualora non lo sapessi allora una volta entrato su Kraken e effettuato la registrazione in questa scheda partecipazioni vedrai l'asset Ethereum quindi con la ricompensa quindi in questo caso qui sarà possibile questi Ethereum in staking semplicemente con un click e poi ti verrà assegnato questo ETH2S in cambio poi infatti come puoi vedere ci sono anche gli altri DOT, KSM che hanno delle ottime percentuali soprattutto perché? perché ti dà un interesse composto ossia riceverai in base alla criptovaluta due pagamenti settimanali di reward questi reward vanno ad accumularsi al tuo staking quindi avrai sempre un interesse composto con cadenza di due ricompense a settimana quindi abbiamo dato queste due notizie vediamo adesso la terza notizia la terza notizia che viene da un giornalista Lorenzo Strohe ci dice che ha scoperto una notiziona ossia che Spotify sta lanciando molto probabilmente la possibilità di avere dei pagamenti in criptovaluta in Bitcoin o altro e sicuramente anche Libra perché questo? perché ha trovato un annuncio di lavoro che stanno cercando un direttore un associate director che sappia strategie di pagamento che conosca strategie di pagamento come ad esempio Libra, Stablecoin e progetti riguardanti il settore delle criptovalute quindi questo sembra una notizia che Spotify si sta avvicinando al settore delle criptovalute quindi un altro colosso oltre a quelli già arrivati come ad esempio Paypal adesso si sta avvicinando in questo settore perché evidentemente lo vede come il settore del futuro e sicuramente non vuole restare fuori bene, abbiamo finito se ti è piaciuto il video metti mi piace iscriviti al canale e ci vediamo presto ciao